Nicola Genovese, Nicola Genovese e oramai sei nel Mugello da 23 anni quindi Mugellano certificato, musicista, tasterista, pianista, tasterista, pianista, matinarista? Sì perché ho studiato arrangiamento quindi ho toccato un po' tutti gli strumenti bene e la chitarra va bene, si usa per fare un po' di scena anche quando ti spiaggia tu accordi ti devi imparare. Per imbroccare? No no no, sono gli altri che imbroccano i suoni perché te stai lì, sei un nerd e quegli altri invece approfittano della situazione, non è mai il chitarrista. Ma almeno questo tipo di chitarrista, quando arrivi sul parco con la chitarra elettrica. Ok e quindi tutto questo quindi immagino degli studi regolari quindi parlaci un po' di come è arrivata questa scintilla, l'amore per la musica. È un mistero perché parte da lontano cioè io quando proprio da bambino avevo questa mania degli strumenti, cioè non volevo giocattoli, volevo strumenti, la fisarmonichina, il saxofonino, veramente tutta questa cosa ed ero impazzivo per i suoni di questa cosa qui e me la son portata dietro. Ok e io nasco batterista. Ah ecco, questo non lo sapevo. nasco batterista perché ero partito come tutti i bambini della batteria, mi regalarono, mio padre era operaio, alla Befana davano i legali, la fabbrica, questo non si è bambino. Mio padre sapendo della passione della musica arrivò alla batteria, una batteria di latta, cassa, pedalino, tom e un piattino. Io contentissimo. Dopo due giorni, prima me la messero in una stanza e cominciarono a suonare. Poi dice no, devi suonare prima solo uno, uno e uno. Io dice ma comunque, facevo un casino del piano. Il secondo giorno me l'hanno tolta. Quindi a me è rimasta questa malattia della batteria. Tant'è che poi a 14 anni cominciavamo a suonare nei primi gruppetti e prese il mio primo ingaggio da musicista facendo un matrimonio di un parente in Basilicata che rischiò a suonare. Che pericolo, rischiarò 300 invitati. Se sbagliate qualcosa ragazzi farà finire male. Andò tutto bene e presi questi soldini, diciamo così, per fare la prima gita in campeggio a mare con il gruppo. Però con i primi soldi che guadagnai, siccome ero fatto prestare gli strumenti, perché non ce li avevamo, dal gruppo più importante, quelli più grandi, costavano tanto allora gli strumenti, le tastiere. Io ero tastierista semplicemente perché avevo studiato un po' con l'organista della chiesa del paese. Però odiavo le tastiere. Infatti ero nel gruppetto, cominciava a suonare la batteria, poi arrivava quello, suonava la chitarra, poi vi manca un po' il basso, poi alla fine me la delegavano tutti, quindi attivavano la tastiera per quella cosa lì. E comprai una batteria con quei soldi lì. Il primo strumento che ho comprato non è stata una tastiera, ma è stata una batteria. E oggi sono talmente malato, da questo punto di vista, che praticamente le restauro, le faccio, mi sono appassionato ai bordi, alle cose, quindi sono appassionato delle batterie. Quindi, io amo le grecce, per un particolare, ma, no, però, sì, 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 sono tante, ma hanno un fascino particolare e quindi faccio giusto queste cose qua. Quindi l'amore nasce geneticamente, ero attratto dai suoni quando ero piccolo. No, a volte magari dici, ah, c'era quel babbo musicista, oppure c'era quel fratello più grande, la mamma, è come me, ti ho detto, io in famiglia, non c'era nessuno, nessuno. No, no, mio padre era, più che altro era, si commuoveva, cioè gli piaceva la musica, nel senso che era sensibilissimo alla musica, mentre mia madre era sensibile all'arte visiva, ai quadri, queste cose qua, tant'è che mia sorella è stata curatrice d'arte. Capito? Io suonava l'armonica, nel senso, così, come cosa, e si appassionava, cioè il suono della fisarmonica, no, che credo chiunque l'ascolti, viene un colpo di emozione, no, è uno strumento che respira, e lui proprio rimaneva incantato da questa cosa qua, anche io, nel senso, però rimaneva più modesta, e lui aveva questa passione, quindi se vedere questa cosa, poi credo sia la sensibilità musicale, ti viene fuori, ti piace, ti trasporta, c'è questa cosa che è bellissima della musica che viaggia nell'aria, non si vede e ti tocca, e quindi, eh, credo, chiunque musicista, la sensazione più bella è quella, e anche da grande trovi la sensazione del gioco, quindi quando si suona insieme, e mi ricordo i primi tempi che si cominciava a sentire la musica che andava bene, no, si andava tutti a tempo, sembrava una cosa che era successa così, e quell'emozione lì, penso sia l'emozione del gioco, che se la perdi, finisce la musica, e quando poi diventa un mestiere, molti si dimenticano di questa cosa, di cercare quella cosa lì, quella sensazione che non è, che anche studio quello che vuoi, cioè serve per poterti esprimere meglio, per poter essere più, non bravo, però per poter fare più cose, come linguaggio, è come sapere più parole, studiare, per poter parlare e avere un linguaggio più completo, però fondamentalmente c'è il lato emozionale e il lato del gioco, se perdi il gioco, la musica è finita, secondo me, questo per tutti, poi c'è chi riesce a mantenerlo, chi purtroppo a volte, non sempre, a volte succede che anche per dei periodi lunghi della vita non riesce ad avere quello stesso stimolo o altro, però ecco, quella secondo me è l'anima della musica che uno ha dentro e poi la voglia di condivisione, la voglia di condivisione, la voglia di condivisione con gli altri in primis e poi la voglia di manifestarsi, ma non per essere, diciamo così, protagonista, per farsi vedere, prova per comunicare, è come dire uno che parla, magari c'è gente che non parla ma con la musica riesce a darti assolutamente tante sensazioni e io oggi quando ascolto, non l'ascolto più come prima, per studiare, per fare, ascolto più il lato emozionale, quindi mi preoccupo meno del genere, di quello che succede, quanto più di cosa cavolo mi vuol dire questo qua, dove vuole arrivare e se mi tocca è piacevole, a volte mi dico, guarda lì, forte sta cosa, mi prendo, guarda che anche roba che sentivo tanti anni fa, che non mi avevano preso, ora guarda e ascolto quel tipo di sensazione e sono sempre, forse questo, vedi, è un'altra cosa della musica che ti fa vedere sempre cose nuove, anche ascoltando roba che hai già ascoltato, esatto, è l'universalità di questo qua, beh, certo, si cresce, si matura e di conseguenza ci stai di ascoltare anche l'ascolto, un disco che hai già ascoltato 20 anni fa e oggi l'ascolto è diverso, vai a cercare dei particolari, delle cose, vai a sentire, dei che non sentivi prima, sì, esatto, quindi va bene, questi sono gli inizi da bambino, ragazzino e poi come va avanti questa cosa? Io sono diventato praticamente quasi professionista musicale a 20 anni perché ci fu, ne erano gli anni 90, sì, 90, inizio degli anni 90, primi anni di università, studiavo l'università perché non era un mestiere della musica, per nessuno, va bene, devi trovarti un lavoro, studia, va bene, studio, però fammi andare a studiare dove si fa musica, quindi andare a Napoli, ok, e c'era il boom della musica etnica e mi chiesero di suonare le tastiere, perché ero tastierista, alla fine ero diventato tastiere del gruppo rock, si facevano la musica di zucchero, la musica di pino d'anghiere, cioè nelle serate che facevamo d'estate così, ma non eravamo professionisti, suonavamo la musica che andava in quel periodo lì, dei cantautori, del pop, eccetera, eccetera, e ci fu questo boom, viene a suonare le tastiere in un gruppo di musica popolare, se la musica era le tastiere, non la musica popolare, tra più la fisarmonica, ma io non sono un fisarmonicista, no, io mi rifiuto, piuttosto preferisco suonare le percussioni, ah, c'era il batterista, però le voglio studiare un po', e quindi cominciare un po' a studiare, non sono un grande professionista della percussione, a me mi chiamavano il cuoco quando suonavo le percussioni, perché avevo tutte le chincaglierie, le maracas, i campanellini, le congas, facevo colori e combinavo insieme al batterista, che era un batterista con cui andavamo d'accordo, lui era più bravo di me, mi insegnava a combinarci i ritmi, e lì ho imparato delle cose, quindi diceva, no, ma se io faccio questo, tu devi fare quello, e studiavamo insieme queste cose e costruivamo l'arrangiamento ritmico di questi pezzi di musica popolare, cominciamo a guadagnare bene, nel senso che l'estate si facevano tanti concerti alle sagre, però eravamo un gruppo che aveva le sue regole, i viaggi, trovarsi lì, e guadagnavamo decentemente, nel senso che non si faceva il reddito, io avevo vent'anni, però ti posso dire che per poterti fare le tue cose, il relativo di 800 euro mensili oggi, facendo quello che ti piace, lo potevi considerare un po' un lavoro, questa cosa qui, questa cosa è andata avanti, è andata avanti, è andata avanti, fino a quando poi hanno cominciato a chiamarti, io fino a 30 anni che mi sono laureato, ho fatto delle cose, ho cominciato a lavorare con la musica, poi ho studiato arrangiamento, poi ho studiato jazz, poi mi chiamavano come pianista, come quello, come quella, ho fatto sempre un po' tante cose, alla fine infatti non ho imparato a suonare bene uno strumento, ma ho imparato a stare bene in tante situazioni, e non mi sono mai tirato indietro nell'affrontare le collaborazioni, e questa è stata forse la cosa che mi ha arricchito di più, perché avevo voglia di fare cose mie, e le ho fatte, però diciamo questa cosa mi è rimasta, sempre, e ho sempre voluto condividere, aiutare, a volte mi hanno chiamato per fare gli arrangiamenti, mi hanno chiamato ragazzi, non sono un arrangiatore, posso scrivere delle parti per i fiat, perché sapevo fare delle cose, però non ho il carisma del direttore d'orchestra, non mi va di dire, fai quello, così, cosa, io combiniamoci insieme, però ero bravo ad arrangiare gli strumenti, ero bravo a infilarmi nelle parti senza essere invadente, e ad uscire quando bisognava uscire, ho imparato facendo l'arrangiatore a stare insieme agli altri senza dominare, avendo cura di rispettare il linguaggio musicale, quindi rispettare gli altri musicisti quando dovevano emergere, questa è forse la cosa che mi è piaciuta di più, nello studiare arrangiamento, e non strumento per essere protagonista, poi alla fine non sono mai diventato un protagonista dello strumento, forse neanche un protagonista per carattere dell'essere personaggio, perché ho sempre messo in primo piano l'entità musical nel suo insieme, e ho sempre scelto musicisti per i miei progetti con cui stavo bene insieme e che mi piaceva come suonavano, per far emergere loro, e insieme a me nella mia musica, poi alla fine ero io, infatti sono contento, ero contento di ascoltare quello che dalla mia testa avevo, con la mia testa avevo partorito in mano a delle persone di cui avevo stima e che mi piaceva ascoltare, quindi eri prima a divertirsi, ascoltando la mia musica, magari a volte anche stato fermo e ascoltandomi solamente loro suonavano, perché era bello, però molto bello, sì sì, il primo disco per esempio, è stato così perché nel 2001, io decisi di fare, cominciavo a fare delle cose, suonavo come musicista in un gruppo jazz, mi chiamavano eccetera, e cominciavo a costruire parole, musica, queste cose qua, e mi ero contento di quello che veniva, fece questi dieci brani, e avevano un piglio cantautorale sulla scia di Paolo Conte, di Capossela, all'epoca andavano queste, questa musica acustica suonata, un po' jazz, un po' latino, un po' boss, eccetera, con questi suoni qua, e quindi vennero bene queste cose, e ci fu l'occasione a Mara Jazz, nel 2000, tramite l'organizzatore, io aiutavo questa associazione a fare i concerti, quindi portavo gli strumenti, li prestavo, stavo sul palco, facevo il tecno, li portavo a mangiare i musicisti, cioè davo una mano all'associazione, e lui mi disse, guarda, io ogni anno, questo operatore, una bravissima persona, Pino Paciello, un bravo operatore musicale, faceva questo bel Mara Jazz, era, quindi c'erano nomi importanti, Pat Metini, Ivano Fossati, questa gente qua, e sì, una serata all'anno, ci vado a perdere, ma voglio che suoni qualcuno del luogo, io ero in Basilicata, è importante, perché per far crescere, diceva, la musica del luogo, è bene che si crei un curriculum, quindi far suonare in un tabellone, ha detto, io ci vado a perdere con voi, cioè ci avrete 15, 20, 30, 40, gli amici e i parenti, però essere in tabellone su questa cosa ti porta ad avere un po' di curriculum. La responsabilità che io suonavo il giorno dopo Joe Zawin, con gli Zawin in un sindacato, il giorno prima di Ivano Fossati, che aveva all'epoca un concerto bellissimo, cioè un cantatore bravissimo, sentiva la responsabilità di creare qualcosa di buono, perché ti senti di fare un concerto, sì, faccio un concerto, e quindi dici, ma con chi suono io tutta questa roba qui, senti un disco, che erano un trio di sassofono, con trabbasso e fisarmonica, erano Simone Zanchini, Roberto Bartoli e Emiliano Rodriguez, che avevano registrato con un'etichetta indipendente jazz, ma era più etnogaz, bravissimi musicisti, tra l'altro, credo che, come si chiama, Simone Zanchini è un bravissimo musicista, conosciuto a livello mondiale, Roberto Bartoli ora ha creato suoni con Gualazzi, o ha suonato con Gualazzi, un turnista, Emiliano l'ho perso un po' di vista, che avevano questo suono molto simile a quello che avevo in testa, e dissi, pure ci provo, mandai una mail, sì, una mail, cominciavano le mail, ho detto, ho sentito il vostro disco e io devo fare un concerto, se vi va, mi mando i provini, le avevo registrati con una cassetta così, e le parti, che avevo già scritto, perché avevo studiato l'arrangiamento, ditemi se potete essere interessati a questa cosa e si organizzeranno un paio di serate, nulla di più, questi mi risposero, sì, porche miseria, eravamo con questo batterista, e dissi, proviamo, e provammo il giorno prima di suonare, qua sarà un disastro, qua mi mettono in croce, cominciamo a, quando arrivavano a provare, e questi qua leggevano a prima vista, già interpretavano, erano dei musicisti meravigliosi, mi snorgo, facevamo due concerti bellissimi, lo spettacolo si chiamava Se Fellini Cantasse, perché erano, diciamo, i testi e le atmosfere sui personaggi felliniani, e gli intermezzi, si calava il buio, in sala, partivano degli audio di film significativi, una storna di La Strada, una serie di film che io avevo selezionato, me l'ho visto tutta la filmografia, per poter selezionare interventi piccolissimi, e fu un bel concerto, l'anno dopo, dissi, ma allora si può fare un disco, entrammo in sala, e trovammo, tramite Roberto Bartoli, questo fonico di umbriageso, che aveva fatto Sting, Gill Evans, questi personaggi qua, una persona squisita, che di mestiere normalmente faceva il corniciaio, a Bologna, e aveva questo studio, che non era uno studio, era un ritrovo di amici, in una cantina, quello di cui a me piace il tuo studio, perché è di Pietro, perché mi ricordo, quello era di Mattoni, tutto con le volte, e aveva un suono particolare, c'era uno stemway del inizio secolo, e suonavano tutti in presa diretta, così, e lui aveva questo otto traccio, non mi ricordo come si chiama, all'epoca andava abbastanza, e quindi registrammo così, in presa diretta, in due mattinate, tutto così, perché avevamo già provato, non è fatto, sapevo cosa veniva fuori, lui è un bravissimo fonico, nel senso che, della vecchia scuola, che avevamo quando siamo andati a mixare, un compressore, un reverbero, e basta, quella roba lì, per qualche traccia, però in gran parte si è fattina così, infatti suona in maniera un po' molto acustica, come quegli anni, non ha una grande forza, apertura, però si sente tutto molto bene, e facevamo questo disco, che andò anche bene, all'epoca era il 2001, io feci il disco così, nel 2001, quando venne qui, tra l'altro, si registrò a Bologna, e feci un bel po' di concerti, molto in teatro, con questo gruppo meraviglioso, e poi, finì lì, e poi ho cominciato a prendere altre strade, decisi di non fare il musicista di professione, perché un giorno dormivo in albergo, e un altro giorno in macchina, ero architetto, ero diventato architetto, perché, grazie a mio padre, che ha detto, studia, perché... Fai anche l'università! Allora ho detto, io sai che cosa faccio? Io, per poter essere un libero come musicista, mi trovo un lavoro semplice, nel senso, non faccio l'architetto star, sfrutto questa laurea per poter avere una tranquillità e avere una dignità, dal punto di vista anche economico, senza esagerare, però così posso essere libero di fare musicista, e fare quello che mi piace, senza andare dietro alla quella, a quell'altro, e poi vediamo che succede, se devo diventare famoso, diventerò famoso, ma se no, sto tranquillo anche così. E così è stato. Poi mi sono trovato qua nel Mungelo, ho vinto un concorso a Scalperia, ma meglio di così! Quindi ho cominciato a lavorare come architetto, in maniera tranquilla, però, senza avere il peso della professione, di lavorare, facendo il dipendente pubblico, il posto fisso, come dice Checco Zavone, come dice mia figlia, che ambisce, anche io. Ecco, ecco! No, scherzo, non è vero, io dico, non farlo, ma però, e di poter fare il musicista, con la libertà di decidere cosa fare, come fare, e non perdere il senso del gioco, di non avere la pressione di produrre, di fare, di guadagnare cose, di avere la serata per forza, ecco, di non perdere questa cosa qua. Però, dall'altro lato, è stato difficile, perché chi fa solo il musicista, io rispetto tanto chi fa il musicista, perché è una faticaccia in mani, è tenuto sempre a stare dietro la musica, dietro l'esercizio, perché se cominci a perdere l'allenamento, eccetera, quindi quello ti stimola a fare di più, dall'altra parte, però, a volte è anche uno stress e ansia, quindi io ho scelto quella strada lì, perché sono un po' più pigro, sono benidionato, tranquillo, fare le cose, tant'è che quando mi sono assestato, infatti ci siamo conosciuti in quel periodo, e abbiamo anche suonato insieme, e ho cominciato a conoscere, appunto, le prime persone che conosco qui furono Dario, Cecchini, Bibi, i ragazzi della Fanta, Koff, Alessandro Succe, cioè, tutti i musicisti, perché poi la cosa bella di questo linguaggio è che sparisce l'identità culturale di bassa, quella che hai tu, il background, quando ti trovi bene con un musicista, non hai importanza da dove vieni, non te ne frega nulla, Africa, Spagna, Irland, cioè, non te ne frega nulla, se stai bene, c'è la musica, ti trovi bene, è un attimo, e tu parli un linguaggio comune, anche senza dire una parola, certo, e questa cosa qua, qui l'ho trovata, perché, ad esempio, dici, ma chi è che suona, Dario, c'è chi? E allora, andai da Dario, e gli dici, ma Dario, ma chi è che suona batterie, chi è che suona quell'altro, da chi mi può indicare, cioè, cominciai a formare i primi gruppi con questi ragazzi, e cominciarono a chiamarmi, e poi, certo, a lavorare, ho lavorato anche con Guanto, con chiunque. Allora, quindi siamo nel Mugello, e tu hai cominciato, a conoscere, e a collaborare, con tanti musicisti del Mugello, hai fatto poi, altri dischi tuoi, ma hai collaborato, per la produzione, anche di dischi di altri, mi viene in mente, Alfredo Mestri, io feci nel 2013, Malvestito, che è quello lì, che poi, secondo me, è la sintesi, di quello che mi piace di più, di tutti e tre i dischi, che ho fatto, io ne ho fatti tre, il primo, nel 2001, era strano posto, poi c'è stato Malvestito, tutto nel Mugello, con musicisti del luogo, tranne qualche incursione, extra continentale, e però fondamentalmente, col trio di base, che era con Leonardo Baggiani e con Alessandro Suggelli, e poi si inserivano una serie di altri musicisti, e poi l'ultimo, quello lì, è stato Quattro Battute Fuori, che è del 2017, credo, con un gruppo di, un mio carissimo amico di Torino, che però era di origine di giù, con cui suonavamo quando avevamo 14 anni, infatti io non so se avrò la forza di fare un altro disco, ho detto, ok, e mi ha detto, o lo facciamo ora, o non lo facciamo più, lui ora è un professionista, suona con tanti musicisti, e quindi ho approfittato di questa cosa, c'era la mia compagna, Cristina, che tra l'altro mi ha aiutato tantissimo, sia nei testi, che nelle musiche, perché è una bravissima autrice, e anche una bravissima musicista, nel fare, sia nel secondo disco, che nel terzo, e il suo babbo, dico babbo, anche se io, questa parola, babbo, quasi, lo so, il suo babbo, c'era la mia compagna, ma come se, c'era questa, al 2001, ah, no, io ho obiettato a miei figli, di chiamarmi papbo, perché è più borghese, che è tutto il contrario di qua, insomma, il suo papà, il suo babbo, c'era questa cascina, ci siamo chiusi in questa cascina, per due o tre giorni, e siamo andati a registrare, come nello studio, la mattina, abbiamo fatto le prove lì, vivevamo insieme, mangiavamo insieme, ci siamo divertiti un sacco, e abbiamo fatto questo disco, da lì, da lì poi, naturalmente, fatto questo, abbiamo presentato il disco, ma ho vestito tutto nel Mugello, e lì ho conosciuto anche Alfredo, e con Alfredo ho collaborato in due dischi suoi, sia come musicista in Conversatorio, che è stato il secondo suo disco, e poi in un altro bel progetto, a cui sono veramente molto legato, che era un suo libro, che non ne ha fatti tanti, Alfredo è molto prolifico dal punto di vista musicale, e che era un libro, dove c'erano più dischi, quattro dischi, dove tra cui c'era anche un intervento di Irene Grandi, però era tutti una serie di persone, tra cui c'erano anche Bargoni, con lui ho lavorato abbastanza, perché ci teneva in particolar modo, avevamo un buon rapporto musicale e umano, e quindi questa cosa qui, lui ce l'ha con tutti, sia con tutti i suoi musicisti, noi ci siamo trovati in affinità, e quindi abbiamo fatto due o tre dischi, in quel periodo, prima però, forse prima di Malvestito, ho lavorato anche al disco di Guanto, prima di fare il disco con Guanto, come al solito, siamo fatti le solite cose che piacciono a me, una cena, pranzo musicale, io avevo messo un microfono, perché avevamo fatto il disco, come si chiama? Madonna, mi si fuga i nomi, dovrebbe essere lì, ce l'ho, chiede Guanto, tra l'altro, bravo, lui, ma c'era, Bruce Pinkstein, ha fatto un disco, in quel periodo lì, dove prese tutte le sue canzoni, Bluegrass, bellissimo disco, registrato in una casa, tutto acustico, completamente diverso dai soliti suoi dischi, a me piacciono tantissimo, gli dici Guanto, tu devi fare una cosa del genere, allora, vertemmo questo microfono, e dopo aver mangiato, allo steto, qui a questa casa, facemmo questa performance, che è rimasta segreta, nel senso, nessuno, la scontriamo solo noi, e subito dopo, da lì, però, da quella, è stato il disco, poi il suono, di tre quartiere, e di tutto il resto, quindi, esatto, il falegname, che registramo solo, pianoforte, lui c'aveva questa, questa cosa qui, è molto bravo anche lui, ad avere le idee chiare, su cosa vuole, chi vuole, che lavori sulla sua musica, un po' il sentore come me, cioè dell'anima, del musicista, e ho aiutato, in quel disco lì, ho aiutato Alfredo, e poi altre tante, ne ho fatto, ma non me le ricordo, perché, no, 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 per dire, quando, quando a volte stavo all'università, e tornavo, tornavo da mio padre, c'erano questi ragazzi, che suonavano, e c'erano dei musicisti, che all'epoca suonavano, con Mango, facevano le basi, Mango viveva in Basilicata, e c'è questo amico, che spesso veniva a collaborare, o a missare, o a lavorare, con i musicisti, c'erano un gruppo di musicisti, e lui mi chiamava, con un synth, mi mandava le basi di elettronica, e mi diceva, tu suona, e io suonavo, un quarto d'ora, cinque minuti, dieci minuti, poi mi fermavo, chiacchieravamo, mi mandava un'altra base, e io suonavo, e lui mi registrava, e non so dove sono finite, quelle cose, perché, sicuramente, lui le poi le rimaneggiava, non c'era nulla più, infatti diceva, ma le posso usare? Sì, si usa, non lo so dove sono andate a finire, perché lì è stato, per esempio, capì che la musica, può essere, di proprietà di nessuno, io e lui, alla fine, nemmeno lui diceva, metteva il suo nome, e lui era una persona, che all'epoca, pensa, andava a prendere i dischi a Londra, perché era un DJ, faceva proprio, queste cose, sto parlando veramente degli anni 90, inizio anni 90, e Leonardo Corbo, Leonardo Corbo, e ora lavora, per esempio, nella musica elettronica, lui è appassionato di questo, quindi sì, per esempio, l'ultima collaborazione, che ho fatto durante il lockdown, ecco, è stata, con Renato Cantini, Renato Cantini è un trombettista, musicoterapista, professionista, quindi musicale, jazzista, eccetera, ma che fondamentalmente, fa musica elettronica, e io l'ho preso nell'ultimo disco, per farmi mettere l'elettronica, la tromba, perché è un bravo trombettista, e bravo a lavorare, su certe atmosfere, di cui, cioè, io volevo contaminare, certe cose, no? E nell'ultimo disco, che lui è bravissimo, ha dei dischi bellissimi, anzi, li invito ad ascoltarvi, i dischi di Renato Cantini, uno, con Michele Staino, che si chiama, Hypnotize, il primo, che mi ha affascinato, e poi anche gli altri, che loro, che lui fa, e anche Michele fa, e questo qua, mi ha chiamato, mi ha detto, Nicola, cioè, tu mi devi cantare, come Bruno Martino, e io mi sono scoperto, cantante, tipo, anni 60, con questo, con questo brano, e questo disco. Ma, ti sei scoperto cantante, hai cominciato lì a cantare, o hai già cantato? Allora, cantare, cantavo, ma il mio modo di cantare, non era proprio del canto, del bel canto, lì mi sono trovato, a dovermi affrontare, il canto con le note, solo senza dover suonare, che per me è una cosa, difficile, Cioè, io, infatti, invidio, e quelli che riescono a farlo, perché è un modo, ulteriore, di manifestarsi, oltre a dire, ah, io canto, scrivo, e ti lancio, delle cose, ti parlo di me, è una riflessione, una meditazione, che fai, a consapevolezza, di dire qualcosa, quando ti manifesti, senza uno strumento, è ancora più faticoso, sei nudo, anche fisicamente, e quindi, questa cosa è fatto, favoloso, e quindi, il futuro? Il futuro, ora, io ho deciso di fermarlo, per il momento, di rallentare, di rallentare, sì, di rallentare, perché qualcosa la faccio, quando succede, che mi invitano, a fare qualche serata, o gig, suoniamo jazz, perché è più facile, è un linguaggio comune, non c'è bisogno di prove, di trovarsi, eccetera, io lo uso più che altro, per stare insieme, condividere una serata, piacevolmente, e poi, ripeto, è cambiata la musica, e non, io sono un altro tipo di musicista, sono quelli che ancora suonava, oggi faccio fatica, a stare dietro, il nuovo modo, di fare musica, per pigrizia, se vuoi, non me la sento, di affrontare, un linguaggio nuovo, ora, non so se per pigrizia, ma fondamentalmente, anche perché, non ho molto da dire, in questo linguaggio, esatto, non credo sia pigrizia, credo sia più, un disinteresse, per questo linguaggio, non so, non seguo nemmeno, tanto, la scena, cioè, tranne alcune cose, è un po', anche, è diverso, è diverso, è cambiato il modo, di fruire della musica, e io non ce l'ho, non ce l'ho, non mi interessa, entrare dentro, al momento, su questa, questa cosa qua, veniamo a un mese volto, secondo me, appunto, siamo in un momento, di transizione, quindi, io sono, sempre ottimista, sempre ottimista, e su, sempre ottimista, ci salutiamo, arrivederci, ciao, grazie.